ciao a tutti ecco qui il nostro bellissimo asilo nido oggi vediamo con chi possiamo giocare aspettate un po' ecco che bella idea le nostre amiche macchine ciao buongiorno ehi ciao amici ciao bentrovati cosa vogliamo fare un bel gioco ma tu qui hai della sabbia sì ed io qui ho una stella allora adesso la riempio di sabbia ecco fatto così perfetto e ora la ribaltiamo bellissima la nostra stella volete provare ma chi sta arrivando ecco qui il nostro amico carattrezzi con un altro amico adesso ti tiro giù liberiamo le ruote siamo tutti pronti per partire parcheggia e ora parcheggia anche tu perfetto e ora siamo in tanti possiamo iniziare a giocare però prima contiamoci 1 2 3 4 5 siamo 5 e ora suona la campanella dobbiamo giocare oh ma il nostro asilo nido è un po' piccolo per queste macchine come facciamo farle entrare ho un'idea andiamo a giocare in giardino pronti via andiamo eccoci qua io salgo sopra vai siete pronti e ora facciamo un bel gioco tutti insieme sì bello allora vedete questa rampa dove salire dovete arrivare qua e scegliere fra i giochi quelli che sono morbidi oppure quelli duri siete pronti? prontissimi vado io ecco sali 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 eccoci qua io prendo questo a quanto pesa ah perfetto che cos'è questo è duro o è morbido secondo te è duro perfetto bravissimo è duro è una bellissima barca andiamo a metterla nella vasca delle palline sei pronto? sì oh è arrivata la barchetta possiamo giocare pronti fate passare e ora chi vuole andare? io ho trovato questo che cos'è? apriamo ma questa è della sabbia per giocare e quindi è morbida esatto morbida e ora tocca a te cosa vai a cercare? ecco un bellissimo maialino e lui lui è morbido e fa anche rumore vero? e ora vediamo cosa hai trovato tu ecco questo va a completare la nostra piramide e ora e tu che cosa hai trovato? un telecomando un telecomando vediamo che cosa succede se premiamo l'acceleratore mac queen ben arrivato ciao e ora che siamo tutti insieme possiamo andare a fare un bel giro fuori pronti? dobbiamo metterci tutti in fila così partiamo e ora andiamo piano piano attenzione dovete stare attenti perché qui il passaggio è molto stretto e per strada è pericoloso ciao a presto ciao